In ogni caso, chi piace o no, il Macintosh è probabilmente, insieme all'iPhone, la trasposizione più fedele del Jobs pensiero messo tutto in un dispositivo. Nel giro di due anni il computer fu pronto. Vedrete come il 1984 non sarà come il 1984. Il lancio pubblicitario con lo spot trasmesso durante l'intervallo del Super Bowl fa già parte della storia. Il lancio pubblicitario con lo spot trasmesso.